La sfiducia nei confronti del sindaco domenico messinese e un ritorno alle urne potrebbe essere appetibile ad entrambi gli schieramenti centrodestra e centrosinistra anche in virtù della nuova legge elettorale che è stata decisa a Lars, senza considerare il Movimento 5 Stelle che ha preso le distanze da messinese dopo appena sei mesi, per cui è meglio che il primo cittadino si apra al confronto e governi con chi mostra trasparenza, lo dice Filippo Guzzardi, portavoce di area civica Gelesi in Movimento. Fra dieci mesi termina il periodo di due anni in cui il sindaco non può essere sfiduciato. Con l'approvazione recente delle modifiche alla disciplina elettorale siciliana a Lars, hanno pensato di reintrodurre l'effetto trascinamento delle liste. Il voto alla lista va automaticamente al candidato a sindaco, favorendo le coalizioni e penalizzando le singole liste che non si coalizzano. Inoltre, il candidato a sindaco può essere eletto al primo turno se oltrepassa la soglia del 40% dei voti validi, non più il 50% più uno. E alla coalizione o lista che l'ha sostenuto scatta un premio di maggioranza fino al 60%. Guzzardi sottolinea che è giunto il momento che il sindaco di questa città rompa gli indugi e dica ai suoi concittadini come e con chi vuole continuare a governare Gela e i suoi tanti problemi che l'affliggono quotidianamente. Il primo cittadino vuole reterare la gestione comunale di questi 14 mesi? È contento e soddisfatto di quanto fatto finora? Lo spiega i gelesi e prove a dimostrarlo con argomentazioni serie e convincenti perché la situazione in città rimarca guzzardi e drammatica e nel frattempo sul piano legislativo sono intervenute alcune novità. Per quanto ci riguarda è evidente che con i suoi fedelissimi che gli sono rimasti accanto, Messinese non ce la faccia. Nessuno mette in dubbio l'impegno profuso dal primo cittadino, dagli assessori e dai suoi collaboratori a vario titolo, ma non è sufficiente e i risultati parlano da soli. La linea di continuità con la precedente amministrazione, senza rappresentare peraltro un'evoluzione in senso migliorativo, è sotto gli occhi di tutti, specie in quelle fondamentali e sensibili problematiche in cui la sua elezione avrebbe dovuto rappresentare un dirompente elemento di rottura. Ci riferiamo, dice Guzzardi, alle questioni della riconversione industriale e occupazionale, l'erogazione del servizio idrico, lo smaltimento dei rifiuti soliti urbani, la portualità, il PRG, la tassazione e con essa delle tasche sempre più vuote dei gialesi. Per Guzzardi, Mersinese e il suo staff non possono più navigare a vista, in attesa di capire se e chi dei 30 che siedono in consiglio comunale avrà il coraggio o meno di rinunciare alla poltroncina per mandare tutti a casa, ridando parola al cittadino sovrano all'interno delle cabine elettorali. Il sindaco, chiude Guzzardi, elabori e sottoponga un progetto a chi volesse eventualmente condividerlo, non sotto banco, come in tanti già sospettano, ma alla luce del sole, provando a dare una sterzata a questo stato di inerzia in cui questa città è costretta da anni nel continuo rincorrere senza mai risolvere vecchie e nuove emergenze.